In che modo la ricerca scientifica cambierà lo sport paralimpico? A chiederselo ieri, nel convegno di Marmirolo, numerosi relatori, introdotti dal moderatore Adalberto Scemma e dall'assessore allo sport del Comune Elena Betteghella. Ha un orgoglio per il Paese avere questo evento in sala civica, perché lo sport è anche inclusione e quindi gli atleti vanno studiati a fondo nelle loro disabilità finché alle gare vengano effettuate sempre con correttezza, appunto nelle classificazioni. Hanno sviluppato l'argomento le professoresse Chiara Milanese e Valentina Cavedong dell'Università di Verona, Silvia Boscaini, laureante in Scienze Motorie ed Emanuele Padoan, studente di Scienze Motorie e atleta della Nazionale di Calcio Amputati. L'evento ha trattato temi come le classificazioni funzionali negli sport adattati, come garanzia di equità nelle competizioni, l'impatto dello sport sullo stato di salute degli atleti con disabilità fisica e fattori associabili alla prestazione agonistica. Diciamo che il progetto che è partito a Verona è un progetto che inizialmente è partito sulle problematiche legate alle classificazioni funzionali perché ahimè ci siamo resi conto che in alcuni sport questo tipo di classificazione non sempre consente agli atleti di gareggiare in modo in modo equo. Il tema delle classificazioni negli sport paralimpici è estremamente cruciale perché è garanzia di equità e giustizia nelle competizioni. È il presupposto fondamentale per divulgare i principi etici, i valori etici dello sport, il fair play e l'integrazione. In questo periodo stiamo effettuando un'estensiva raccolta dati per vedere l'impatto della disabilità sulla prestazione sportiva, in particolare di atleti che stanno praticando il sitting volley e il calcio amputati. Tra gli ospiti anche le campionesse paralimpiche Francesca Porcellato e Xenia Palazzo. Allora la mia ultima medaglia è l'argento vinto nella gara a cronometro a Tokyo, dunque alle Paralimpiadi e cosa rappresenta? La mia quattordicesima medaglia alle Paralimpiadi ma una scommessa vinta. Io l'ho chiamata a crederci sempre e mollare mai perché comunque è un'ulteriore sfida. La mia terza disciplina ma comunque è arrivata in un anno molto particolare dove con la pandemia si è rimesso in gioco tutto quanto. Dunque è stato tutto più difficile del previsto e dunque salire sul podio, riuscire a fare questa Paralimpiadi, salire sul podio è stata veramente una sfida vinta.